Siamo con Corrado Schiazza, uno sicuramente degli artefici principali di questa grande cavalcata del Molassana. Corrado, cosa dire di più? Complimenti, grandissima stagione. Ottima stagione, eravamo partiti consapevoli che potevamo far bene e abbiamo fatto benissimo. Siamo in testa dalla quinta giornata e abbiamo avuto un montaggio massimo di 12 punti. Allora due giornate dalla fine siamo usciti nell'impresa, per me è un'impresa. Che dire? Devo dire grazie a tutti, grazie a tutti i ragazzi, al Presidente Franini che insieme a me ha creduto in questi giovani tre anni fa, perché è un discorso che secondo me arriva da lontano, da tre anni fa in eccellenza quando si è voluto scommettere su questa squadra. E quest'anno con l'innesto del giovanissimo Barsacchi, già l'anno scorso, siamo riusciti veramente in questa impresa. I giovani sono maturati e veramente con l'aiuto di Ansardo, Barsacchi, Mandai e Russo, che diciamo sono le chiocce di questo gruppo di 96-95, siamo riusciti nell'impresa. Questa è la prova, se si vuole, questa vostra promozione, è la prova che i valori esportati, tra virgolette, dal Caravella sono i valori vincenti su cui la società ha deciso di scommettere, no? Tu la storia la conosci bene perché sei stato uno dei primi a intervistarmi quando io sono arrivato a Moda Sano. Noi abbiamo fatto una squadra, perché se pensi che non abbiamo un uomo da vetti in gol, non può vedere se era il colpo. Noi, il nostro campioniere ha sei gol e lo verrà segnato però tutti. Questo vuol dire che lo spirito di squadra e del gruppo sia riusciti a fare un buon lavoro, nel senso che dove non siamo riusciti ad arrivare con un singolo individuo come hanno in tanti con l'attaccante, non ci siamo arrivati come squadra e credo che sia risultato più bello questo. Senti, il rapporto strettissimo di amicizia fuori e dentro al campo con Massimo Zamana è stato forse l'arma in più fuori dal campo, in panchina, per organizzare al meglio questo gruppo e portarlo a questa cavalcata, immagino. Ma, Zamana è un lavoro che è un luogo che va avanti da vent'anni, abbiamo iniziato insieme, continuiamo insieme. Con Zamana proprio c'è un'intesa perfetta, ma devo dire anche grazie all'aiuto di Mercurio, che è il preparatore atletico, di Miniemi, io ci metto anche del mazzoterapista Aldo, che tutto lo staff siamo riusciti a, in questo imperativo, per me è un miracolo sportivo, ora magari il termine è esagerato, però siamo partiti proprio a fare i spendi, nessuno ci dava come, tutta la gente li dieva quando io ho detto che saremmo arrivati nelle prime cinque. C'è una dedica particolare per questa vittoria? Una dedica particolare a tutti i ragazzi, perché sono stati bravissimi, anche quelli che purtroppo ci hanno lasciato, tipo Taviolati, che per motivi di lavoro ha dovuto andare via, a tutti e 23 parti del gruppo, ecco io, farei questa dedica per tutti i ragazzi, bravi, bravi, bravi. Grazie Corrado. Figurati.